e i primi anni dieci del novecento, siamo a Palmina, noi abbiamo scoperto questa ragazzina che in qualche modo ci dava delle informazioni su delle persone che lasciarono la nostra terra e partirono in Australia, partirono Belgio nelle miniere e poi ancora America non c'era Whatsapp, non c'era Messenger, c'erano soltanto lettere, lettere che andavano po' contenente, già picchio contenente è una terra lontano per noi, siamo siciliani, isola dopo il paese, dopo la guerra, c'è confianceva, e qua c'ancava, chi a notte brecava, e che lontano si rannava, vuota lo contenente, con borsi e sentimenti, ne avevano tante famme, ma non taggiano mai legame, ai ai ai, e me grano tante sai, ai ai ai, per non tornare mai, ai ai ai, oh parisi e qua giocante, si baciava da amici destante, cognate e parenti amante, tutti partino parevano sante, chi finì ha fatto, ma che ti disse che stanza hanno avuto ragione, o mare pesante, tu polo lontano, che stanza hanno avuto ragione, ai ai ai, e me grano tante sai, ai ai ai, per non tornare mai, ai ai, e me grano tante sai, ai ai ai, per non tornare mai, ai ai ai, Gli attufoli hanno cuspanza e presenza, nei palminati è una licenza, sape scrivere sotto la sentenza, ietene santa, a pazienza, così da sassettava, e a sé la magia che scriveva, sogni, speranze e l'amore, come fossero professori. Ai ai ai, e me grano dante sai, ai ai ai, per non tornare mai. Ai ai ai, e me grano dante sai, ai ai ai, per non tornare mai. Grazie.